Ciao amici, io sono Andrea e benvenuti nel nostro nuovo laboratorio. Faccio questo video perché alcuni di voi mi hanno chiesto di aggiornarvi sullo stato dei lavori, anche perché ultimamente ci siamo visti un po' pochino, ma anche noi siamo stati molto presi nel seguire tutti i lavori che abbiamo fatto qui dentro. Quindi, con grande piacere, vi faccio vedere il nostro nuovo laboratorio, che poi non è il nuovo laboratorio, è solamente abbiamo ristrutturato la vecchia zona di dove si trovava la cabina di verniciatura. Quindi l'abbiamo tolta, stava proprio qui, in questa parte centrale, l'abbiamo tolta e abbiamo creato un nuovo spazio. Ma in questo nuovo spazio noi ci trasferiremo, quindi non lavoreremo più dove eravamo prima, ossia all'entrata, diciamo, del garage, ma lavoreremo in questa parte, diciamo, posteriore. Abbiamo meno luce, però meno luce non è una cosa negativa, ovvero meno luce ci renderà un pochino più facile fare le riprese, perché avremo comunque sempre un'illuminazione artificiale, quindi sarà più semplice impostare la fotocamera e spero che anche i nostri video saranno migliori. Allora, vi faccio vedere un pochino com'è lo spazio. Nel senso, abbiamo solamente una finestra qui sopra che praticamente sta al livello della strada. Quindi non abbiamo una luce diretta naturale, abbiamo solamente questa qua, che però ce la faremo bastare e va bene così. Naturalmente sarà montata un'illuminazione, ma quello poi lo vedremo in un secondo momento. Intanto vi faccio vedere come sarà. Dove si trova al momento Flavia? Quindi il punto di ripresa sarà proprio l'entrata del laboratorio. Quindi entrando dal laboratorio la prima cosa che si vedrà sarà questa parete. In questa parete purtroppo da questa parte ci sono queste due colonne maledette, perché sono messe anche un po' centrali, e purtroppo sono staccate di circa un metro e venti dal muro. Detto ciò, questa sarà la parte dove inseriremo tutto il banco della troncatrice. Quindi comunque il banco è profondo 60 e io avrò un'altra sessantina di centimetri eventualmente per poter passare, diciamo, tra colonna e banco. Ce n'è un'altra qui giù in fondo. Stessa cosa, stessa posizione, stessa distanza dal muro. Qui probabilmente ci verrà messa una scaffalatura che andrà proprio ad angolo e poi dalla scaffalatura partirà il banco della troncatrice. Queste saranno le zone in cui lavorerò di più, quindi centralmente qui verrà il banco da lavoro, che tra l'altro sto anche scopiazzando, diciamo così, perché il mio amico Roberto ne sta costruendo uno bellissimo, mi piace tanto e probabilmente se ce la facciamo mi verrà anche aiutare a costruirlo come il suo. Quindi verrà un grande banco, bello grande, quindi circa, fate conto, 2 metri e 40 per 125, più o meno la grandezza di un pannello di multistrato. Quindi sarà un bel banco grande dove potrò poi costruire tante cose, avrò più spazio per potermi appoggiare. Da questa parte invece ci andranno posizionate tutte le macchine, quindi il banco fresa, tutte le macchine che ho su ruote comunque. All'angolo rimonteremo la stufa pellet, una cosa molto positiva di questo spazio è che si scalda molto facilmente, perché comunque è più chiuso, non c'è più la porta d'entrata che comunque ha una dispersione allucinante, e quindi è molto più semplice da scaldare, quindi anche la stufa consumerà di meno e noi saremo molto più felici sicuramente. Vi dicevo, qui ci andrà quindi la stufa, alcune macchine che comunque io sposterò nel tempo. Abbiamo voluto creare, aspettate che vi sposto la luce, e così si vede meglio. Abbiamo voluto creare anche un bagnetto, perché comunque diciamo che è necessario, a parte il water, ma ci verrà messa anche una bella vasca, un po' grande, tipo lavatoio, in modo che comunque potremo, che ne so, sciacquare i pennelli, fare tutto quello che sarà necessario fare. Ed è uno spazietto che abbiamo ricavato, in questo angolo. Perché? Perché l'idea iniziale era anche quella di chiudere, a filo qui del bagno, praticamente, chiudere tutta questa parte, fino alla parte della... Aspettate che sposto un pochino la luce, così si vede meglio. Quindi chiudere tutta questa parte qui, e fare un piccolo ufficio. Abbiamo pensato all'inizio di farlo in muratura, però in effetti in muratura già è buia, diciamo, come situazione. Quindi abbiamo fatto fare solamente le pareti, e poi lo chiuderemo noi, e vorremmo fare una struttura legno e vetro, ferro e vetro, quindi comunque una struttura che sarà trasparente, magari con un muretto basso, e una struttura trasparente, in modo che dall'ufficio si potrà vedere il laboratorio, e rimarrà comunque un pochino più spazioso, un pochino più arioso. E questa è una cosa molto importante. Quindi ci rimetteremo il nostro tavolo da progettazione, quello che abbiamo fatto un po' di tempo fa, vi lascio qua sopra la scheda, così ve lo andate a vedere, e qui ci andrà una libreria dove vorrei mettere anche le stampanti 3D, in modo che saranno comunque allontano dalla polvere, perché non mi sono mai azzardato a portarla qua, perché avevo sempre paura che si impolverasse troppo con i lavori del laboratorio, mentre invece creare comunque una zona dust free, quindi comunque che non sia sporca di polvere 24 ore al giorno, è sicuramente un gran traguardo. Da quest'altra parte invece, allora la porta, qui abbiamo creato naturalmente un muro per dividere e chiudere, quindi questo era il muro che praticamente, dove stava la bocca della cabina di verniciatura, quindi da qui partiva la cabina di verniciatura, che si sviluppava verso Flavia, che sta riprendendo. Io ho voluto fare una porta da 130 centimetri, quindi una bella porta grande, che comunque sarà sicuramente scorrevole, comoda da fare, semplice da fare, e ci metterò anche poco. Bella grande, perché comunque magari sai, passarci con i pannelli e tutto quanto, sarà una cosa un pochino più semplice. Oltretutto abbiamo risposto di nuovo la luce, qui naturalmente ci sono ancora, qui ancora tutto naturalmente work in progress, quindi, oddio, qui ancora tutto work in progress, quindi naturalmente ci sono ancora attrezzi dell'impresa che ci sta facendo i lavori, però da questa parte ci sarà il, da questa parte c'è una serranda, quindi c'è un passo carabile, dove noi potremmo arrivare tranquillamente, anche con la macchina, quindi anche per scaricare i materiali, è una cosa molto molto comoda, e molto semplice, quindi non perdiamo, diciamo, la possibilità di avere un'entrata semplice, anche con la macchina, quando dobbiamo scaricare tutti i materiali, o i pannelli di legno, quello che sarà nel tempo, e qui davanti ci vorrei mettere comunque, il banco di Festool, l'MFT, anche perché questa non credo che la apriremo molto, molto frequentemente, quindi entreremo sempre dal nostra porta, e quindi qui vorrei metterci il banco di Festool, poi ci sarà naturalmente una parte, dove verrà montato il quadro elettrico, non so ancora se su questa parete, o su quest'altra, mentre invece qui sarà la zona, dove inseriremo il, aspettate che mi avvicino la luce, se no non si vede, ecco, mentre invece questa qui è la zona, dove metteremo il banco del ferro di Flavia, con tutte le parti, diciamo, per la lavorazione del metallo, questa è la zona dedicata alla CNC, quindi la lasceremo qui, in questa zona qui, mentre invece, ho studiato un pochino la cosa, poi magari vi condivido il file di Fusion, dove ho fatto la piantina, e sicuramente, anzi molto probabilmente, in questa posizione, metterò la sega a nastro, anche perché è una parte centrale del laboratorio, e posso tranquillamente muovermi, e lavorare con dei pezzi anche molto lunghi, quindi diciamo, la sega a nastro sarà messa in questa posizione, io potrò lavorare in questo modo, quindi anche con parti molto lunghe, e non avere problemi, sega a nastro, qui invece verrà, per lo stesso identico motivo, la pialla filo spessore, perché comunque riesco ad avere tranquillamente, 3 metri verso la parete d'entrata, e 3 metri verso quest'altra parete, quindi riesco tranquillamente a lavorare, anche dei pezzi molto lunghi, accanto alla pialla filo spessore, ci sarà il banco sega, quindi pialla filo spessore, banco sega, e poi qua, come vi dicevo, il tavolo da lavoro, bello grande, che comunque potrò poi, spostare ovunque voglio, e dovrebbe essere uno spazio molto ben attrezzato, nel senso che poi tutte le macchine, che uso più di frequente, aspettate che mi rigiro un'altra volta la luce, se no non mi vedete, anzi mi spiace anche per l'audio, ma al momento qui è tutto vuoto, quindi sicuramente ci sarà un rimbombo pazzesco, quindi vi dicevo, qui al centro ci sarà il banco da lavoro, dove, diciamo, intorno gireranno tutte le macchine, tutte i satelliti, per poter lavorare sul banco di lavoro, quindi banco sega, che ne so, banco fresa, avremo la sega a nastro, la pialla filo spessore, quindi tutte le macchine saranno molto vicine l'una all'altra, ed è una cosa che amo, anche perché il vecchio laboratorio, il vecchio spazio, diciamo, che sfruttavamo, era anche se molto più grande rispetto a questo, questi sono circa 55-60 metri quadrati, più o meno, e contando che poi lo spazio del bagnetto, lo spazio dell'ufficio, si ridurranno ancora, però la fortuna di avere, diciamo, tutte le macchine una vicina all'altra, mi permetterà di lavorare anche più velocemente, anche perché, vi faccio un esempio stupido, tra il banco da lavoro che avevo all'entrata, e la pialla filo spessore, ci sono circa una quindicina di metri nel vecchio spazio, quindi faceva avanti e indietro, era tutto un po' più dispersivo, invece così riusciamo comunque a lavorare in maniera più efficiente, riuscirò a lavorare in maniera più efficiente, in un spazio sicuramente molto più ordinato, e poi con il fatto che naturalmente il vecchio laboratorio era comunque un garage, quindi di sera ci parcheggiavamo le macchine, quindi a fine lavoro dovevo comunque ripulire tutto quanto, spostare tutte le macchine sui lati, invece in questo caso riesco a lasciare tutte le macchine stazionari, ferme dove devono essere, e lavorare sicuramente più agevolmente, sono proprio felice di questa cosa, sono veramente molto felice, perché è uno spazio che si scalderà benissimo e con poca spesa, è uno spazio che sarà molto più ordinato e organizzato, e sarà anche spero più bello da vedere, perché ci stiamo investendo anche tanti soldini, anche perché in effetti come dice l'impresa, dice noi eravamo venuti per chiudere una buca, che era quella diciamo dove si trovava la cabina di verniciatura, e invece poi ci avete fatto fare un appartamento, perché in effetti poi lo faremo molto bello come laboratorio di Valegna Meria, comunque il nostro spazio dove potremo lavorare, a pavimento dovremmo mettere delle piastrelle, perché abbiamo scartato tante soluzioni, all'ultimo diciamo che è tra virgolette quella più economica, e più come dire, con il risultato migliore, esteticamente anche un pochino più bello, perché avevamo pensato anche al pavimento, sempre quello tipo PVC e tutto quanto, ma ci sarebbe costato comunque un pochino di più, perché comunque all'ultimo, tra il pavimento che dobbiamo comprare, lo scarto e tutto quanto sono un bel po' di soldi. Stiamo finendo i lavori e spero che non la prossima settimana, ma quella successiva ancora, dovremmo aver finito tutto quanto, quindi dovrebbe essere tutto a un posto, pavimenti, rivestimenti, anche perché che cosa manca adesso? Manca la rasatura di tutte quante le pareti, l'impianto elettrico e il pavimento, quindi faranno prima la rasatura, io sto scalpitando perché dopo che loro faranno la rasatura, io mi predisporrò tutto quanto, l'impianto elettrico, tutta quanta la canalizzazione, le canaline e tutto quanto, in modo che poi chiamerò, diciamo, chi lo fa di mestiere per far passare i fili e tutto quanto, quindi risparmierò un pochino ancora con quello, e poi all'ultimo, la cosa finale, il pavimento, e dopo di che sposteremo, diciamo, tutte quante le macchine che abbiamo dietro, anzi se Flavia si gira, purtroppo qui c'è proprio un, per ora abbiamo messo questa plastichina per chiudere la porta, in modo da mantenere il calore nella stanza, però come vedete di fuori c'è proprio il delirio, e c'è, non, c'è proprio un dito di polvere su tutto, è stato un, un disastro, un vero disastro, però piano piano ripuliremo tutto, riorganizzeremo per bene tutto quanto, secondo me sarà un gran bello spazio, e saremo anche molto felici di venirci a lavorare, quindi manterremo comunque la parte esterna, diciamo, che la terremo più che altro come magazzino, quindi stoccaggio dei pannelli, delle tavole, o comunque con delle scaffalature, rimarrà un ambiente molto pulito, questa è una cosa che vorrei fare, nel senso con pochi impicci in mezzo, e sarà più semplice pure lavorarci, quindi ragazzi miei, noi vi salutiamo, vi salutiamo, vi salutiamo, vieni qua Flavia, vi salutiamo, e ci vediamo, magari per qualche aggiornamento, così vi tengo aggiornati un pochino, su quello che sta succedendo, purtroppo non siamo riusciti a fare molto in questi giorni, perché tra il mio lavoro, il mio vero lavoro, e tutto ciò che abbiamo fatto qui, per reperire materiali, idee, tutto quanto, siamo stati un po' più assenti, però insomma, è un motivo buono, perché torneremo insomma, con tante nuove idee, quindi vi diamo un grande abbraccio, e ci vediamo presto, ciao amici, ciao ciao,